E' stato stroncato sul nascere un cantiere edile in piazza Arnaldo Schettini di via Popilia a Cosenza. Infatti intorno alle 18 lunedì scorso è scattata l'operazione di sequestro da parte del nucleo decoro urbano della polizia municipale della città Abruzia su di un reliquato di terreno destinato a spazio pubblico perché alcuni soggetti erano intenti a costruire un manufatto in laterizio impossessandosi dell'intera area. Tutto questo rappresenta un forte segnale che arriva alla cittadinanza, un segnale di legalità, di vicinanza e di un forte impegno da parte delle comune nell'ambito della tutela del territorio. Il periodo estivo è da sempre il momento più propizio per il costruttore abusivo perché lo stesso approfittando di una città semideserta spesso si cimenta a realizzare manufatti che si erigono dalla sera alla mattina senza alcun titolo abilitativo e soprattutto senza alcun riferimento alle norme anche basilari sulla sicurezza. Già negli anni passati via Popiglia è stata al centro dell'attenzione della polizia giudiziaria e della polizia municipale proprio per la costruzione di diverse opere abusive. Quest'anno per volontà dell'amministrazione comunale è su disposizione del comandante della polizia municipale uscente prima di quello nuovo proprio per scongiurare gli eventuali abusi edilizi o le chiusure di spazi destinati a verde pubblico l'ispettore Tavernise. La responsabile del distacco del nucleo decoro urbano ha intensificato i controlli su tutto il territorio monitorando anche aree a rischio con un speciale drone aereo che riesce a individuare movimenti a terra da un'altezza di 70 metri. L'intera zona di via Popiglia poi ed altre parti del territorio comunale sono state anche munite di un sistema di videosorveglianza che sarà in funzione nei primi giorni di agosto e saranno in grado di ingrandire una targa automobilistica da parecchi metri di distanza.